Il giorno dopo la corsa di orientamento sono stata convocata dalla preside riguardo l'accaduto durante la corsa. Per cominciare andrete a scusarvi col professore per l'accaduto. Buongiorno signorina Kelly. Avrei bisogno di aiuto per riordinare la sala professori. Bene, per me potete andare. Grazie ancora dell'aiuto. Ciao Castiel, sei per caso chi ha vinto la corsa? La sola cosa a cui ho fatto attenzione sono le tue eccezionali capacità di perdersi nel merito della foresta. Una squadra ci ha soffiato il primo posto. Ah, eccoti razza di... Per colpa tua? La mia vittoria è passata il tutto inosservata. Violetta e Alexi stanno parlando e lei è rossa come un peperone. Mi sono... mi sono innamorata di Alexi. Stavo provando a parlarnele, ma non ci riesco. Vuoi che gliene parli? Gra... grazie di cuore. Hai visto tu fratello per caso? Ho qualcosa da chiedergli. Una dichiarazione? Senti, puoi farmi un piacere. Quando ne avrai parlato ad Alexi, potrai raccontarmi com'è andata? Non è che per caso hai visto Alexi? Mi pare di averlo visto nei pressi del club di giardinaggio. Perché? Così, giusto per sapere. Domanda è idiota, vero? Non più di tanto. Cerca Alexi perché devo chiedergli qualcosa. Che tu marroni, Castle, però. Cioè, cosi vuoi? Non parli mai? Hai visto Alexi per caso? Stavo parlando con Violet prima. Sì, grazie. Adesso però non lo trovo più. E perché non gli hai parlato in quel momento, allora? Ma io ti faccio così tante domande così a caso? Sì, mi viene appena chiamato dove è Alexi. Ma va a quel paese, Castle, ma fatti un giro. Ciao, Kelly. Come stai? Ho sentito dire che ti sei persa ieri. Perché tutti pensano che sia stata io a perdermi? È stato Deika a sbagliare il sentiero. Sì, cara, ma tu l'hai seguito. Non ti sei opposta. Tu in teoria hai una volontà. Noi, infatti, ti abbiamo fatto perdere, però dettagli. Dunque, come... Come... A bordo l'argomento? Facciamo un arrembaggio, dai. One Piece. Andiamo tutti all'arrembaggio, porca! Ma, ragazze, che avete in questo momento? Siete strane? Violet prima ha fatto lo stesso. Non è stata capace di dirmi mezza parola. Siete per caso malate? Visto che ne parli, Violet voleva chiederti qualcosa prima, ma siccome è troppo timida, sai, capisci che... Che è l'artaglia? Chiediglielo direttamente. A dire il vero, l'essere così timida la rende ancora più carina. Ti piace, quindi? Certo. Al tatto di un mattone contro la finestra? Perché, logicamente, quando tu togli una persona carina, automaticamente... Cioè, è vero, ti piace, ma devi specificare il senso che è lei, devi specificare. Sì, mi è simpatica. Tu e lei siete state le prime ad accogliermi qui al liceo. Perché, vedi, cioè, come dirlo, tu... Tu le piaci molto. In che senso le piaccio? Beh, cioè... Diciamo che... È un po' innamorata di te. Giusto un pochino, è un piedino solo. Un piedino. Diciamo che c'è un piccolo problemino, allora. E perché hai detto che la trovi carina? Sì, ma non è proprio il mio tipo. Ecco... Ma perché non provi almeno? Cioè, Violet è così gentile. Allora, ci riprovo. Non è il mio stile di ragazza, né lei, né altre ragazze del liceo. Diciamo... Preferisco... I muscoli. Vuoi dire che... Sì, Keller, arrivaci, su, dai, ciò puoi fare. Eh, sì. Oh, no. Ma perché i ragazzi più carini non avano le ragazze? Mi dispiace per Violet. Spero che non ce l'avrà con me. Oddio, cioè, non è che è colpa tua, eh? Penso di no. Non è come se tu non le piacessi. A me non crea certo problemi continuare ad essere suo amico. Anzi, meglio vado a parlarle. E se sarà ancora giù di morale, andrò a comprarle un vestito. Oh, sei l'amico perfetto, Alex. Oh, come sei caro. Oh, bugiolone. E' andato via. Per questo Armin si è messa a ridere quando gliene ho parlato. Avrei potuto usirmelo. Anch'io l'avrei fatto, in effetti. Cioè, c'è da far tanti con le risate. Poi no, comunque è giusto che te lo dicesse Alex. Visto che Lexi vuole parlarne con Violet, non avrò più bisogno di dargli io la notizia. Bene, laviamoci le mani. E' un'ingiustizia. Ah 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 ah. Missa la tua faccia, deve essere stata davvero comica la cosa. Dovevo venire con te. Potevi dirmelo, eh? Che cavolo. Sarebbe stato meno divertente. A dire il vero, pensavo che fossi tu a preferire i ragazzi. Ah ah. Divertente. E' per i miei vestiti, vero? Odio fare shopping. E quindi è Alexi che lo fa per me. Forse è per questo. Ah, davvero? E tu invece? Non ho gli stessi gusti di mio fratello. Ma chi l'avrebbe mai detto? Oh guarda, Castle e Lisandro stanno parlottando. Lisandro parla guardando dritto negli occhi Castle. E sembra così serio. Ma cosa stanno dicendo? Beh, avviciniamoci ancora un po'. Tanto perché noi non origliamo mai. Lo sai. La passione è forte come un veleno. Ho bisogno di sentirti vicino. Lisandro? Ma che cosa sta dicendo? Oddio. Kelly, la page ti sta... Aspetta, aspetta Iris. Adesso sono occupata. Aspetta, ricchia. C'è una scena troppo cute in corso. Sì, però sembrava importante. Credo volessi sapere se eri andata dal professor Farais. Ho detto dopo, Iris! Oh no, sono andati via! Mi ha fatto perdere il mio momento slash. Io lo sapevo. Che se non era un Castle e Natania, era un Castle e Lisandro. Ma sono certa che siano tutti e tre. Vuoi vedere che anche Lisandro è? E Castle non si arrabbiava. Forse perché... Allora, cosa dico alla preside? Allo stesso tempo sono spesso insieme. E Castle manda spesso col paese le ragazze. Ma vuoi vedere che... Kelly, ma mi ascolti? No, evidentemente. In più non ho mai visto Lisandro con una ragazza. A parte Rosa. La ragazza di suo fratello. E poi gli ha detto... Ho bisogno di sentirti vicino. E chissà cosa vuol dire. Eh, canta eh? No, provo a immaginartelo, Kelly. Su, un po' di immaginazione. Su, sei una faggirl. Senti Kelly, non mi va che la preside si arrabbi con me. Ah, scusami. Sì, sì, sono stata al professore. Perfetto. Vado a dirglielo allora. Senti un po', Iris. Cioè, secondo te... Lisandro e Castle stanno insieme? Ma lo chiedi a lei? Davvero? Sono una coppia? Questa poi? No, no, no. Ti facevo io la domanda. Vabbè, lasciamo perdere. Tu spargli la voce così se almeno non lo veniamo a sapere nel caso. Devo fare chiarezza su questa storia. Ci deve essere una spiegazione. Non è possibile. No, no, è possibilissimo. Io voglio una trisca fra quei tre. Scoop, la preside non si è arrabbiata. Mamma mia, che cazzo me ne frega? Infatti pensavo, Scoop, cazzo e Lisandro stanno davvero assieme. Glielo sono andata a chiedere. Meglio evitare di parlarne della storia. Ma se glielo hai appena detto. Violet, come stai? Come hai preso la storia di Alexi? È venuto a parlarmi. Usciamo insieme stasera. Gli piacciono i ragazzi. Che posso farci? Da una parte è meglio così. Mi sento più vicina a lui adesso che so tutto. Tu no? Meno sono chiesta. Ma non so. Però mi chiedo se per caso Castelisandro non abbia anche loro gli stessi gusti. Perché cosa c'entra adesso Castelisandro? Fanno parlando di Alexi. Perché amano fare shopping? Sì, è vero. L'Isandro si veste bene. Forse hai ragione allora. No, no. Veramente non parlavo di questo. Ma che cosa sta succedendo? Salve, signorina. Salve. È ancora qui? Credevo sarebbe rimasto solo per la corsa. Cioè, mi inquieta. Senza offesa. Era previsto così. Ma poi la direzione ha pensato che fosse necessario un professore di sport al liceo. Ah, quindi noi avevamo... Un insegnante di ginnastica. Quindi lei è il nuovo prof di sport? Queste traduzioni. Educazione fisica magari, eh. Sì. E Dake resta con lei? No, è mio nipote è partito. Ma forse tornerà l'estate prossima. Ah, ok. Speriamo di non incontrarlo. Perché abbiamo leggermente capito che suo nipote è tanto bello quanto rompi balle. Ora, che ci penso? Credo volesse dirvi qualcosa prima di partire. In ogni caso, è stato molto contento di conoscervi. Meglio così. Anch'io in ogni caso. Adesso deve scusarmi. Sto organizzando un torneo di basket per i ragazzi. E Lisandro non è ancora venuto a prendere la sua divisa. Forse l'ha dimenticato. Sì, sicuro, conoscendo Lisandro. Lisandro ha la tendenza a dimenticare parecchie cose. Vado a dirlo. Devo comunque parlargli. Oh, grazie. Che gentile. Proprio la persona che cercavo. Che è Leir? Come stai? In forma? Sì, tutto bene, grazie. Perché? Niente di particolare. Sì, forse una piccola cosa da niente. Cosa vuoi, Peggy? Ho sentito dire che hai fatto dei veri exploit nella corsa di orientamento. Ottimo per scrivere un buon articolo. Per cui mi piacerebbe intervistarti. Ti andrebbe? Ma ci siamo perse. L'unica cosa che mi ha fatto è flortare male con un pazzo che poi si è arrivato un pazzo e quindi mi ha smesso di flortarci. Sì, perché no? Vediamo cosa mi chiedi. Ho risposto alle domande di Peggy. Ah, ok. È stato molto divertente e avvincente questa intervista. Perfetto, grazie mille. Ok, non scrivere troppo ai cattiveri su di me. Ho appena visto un prof un po' strano. È qui da molto tempo. Di chi parli? Quello che dice essere prof di sport. Voleva parteciparsi ad una partita di basket, ma ho rifiutato. Ah, parla di Boris. Come potrei abbordare il discorso? Cioè, Kaltelto è sempre un modo per arrabbiarsi. Quindi diglielo e basta, tanto sarà abbia a prescindere. Sì. Per caso ho qualcosa sulla faccia? Oh, no, no, per niente. Stavo solo riflettendo. Non mi va di sapere cosa pensi mentre mi guardi in quel modo. Tu non lo vuoi sapere. Niente di importante. Credimi, non è niente di importante. A dire il vero mi interessa. Che hai? Dormito bene stanotte? Avresti potuto trovare di meglio. Per spostare la mia attenzione. No, sono stanca. Non posso farci niente. Conoscendoti, me lo direi prima della fine della giornata. Non sai mantenere un segreto. Non è vero! Bugiarda! Che bugiarda! Io sono un fantastico con la pasta, infatti, di segreti. Sì, sì, è così. Al tempo stesso, saresti meno simpatica se parlassi poco come Violet. È per caso visto Lisandro? Deve partecipare alla partita e ha dimenticato di andarci. Ma noi che c'è frega di Lisandro che gioca la masca? Lisandro? Quello con gli occhi bicolore? Sì. In generale si nota soprattutto il suo stile. Poco fa l'ho visto nel cortile. Vuoi che ti accompagni a cercarlo? Perché mi sembri un po' impedita. Potresti perderti nel tragitto. No, ti ringrazio. Vado da sola. Come vuoi. Se hai qualcosa di cui vuoi parlarmi, ti consiglio di farlo subito. Meglio non dire niente. Almeno non a te. Come mai non sei in jogging, Lisandro? Eppure il prof di sport mi ha detto che parteciperai alla partita di basket. Effettivamente ne aveva parlato. Devo cambiare la tenuta. Farò solo riscaldamento. Non mi interessa la partita. È vero che non sembri un grande amante dello sport. No, genia. Da cosa l'hai capito? Dipende dallo sport che sono obbligato a praticare. Capisco. Boh, si è diretto verso la palestra. Sti ragazzi sono andati a giocare a basket. Oddio, che dia malsano ci sta per venire. La migliore che abbiamo mai avuto. Se ci penso, Lisandro mi ha appena parlato di spogliatoio. Se si cambia lì, forse avrò una possibilità di vedere il suo tatuaggio. Quello sulla schiena. Abbiamo delle menti contorte che facciamo veramente paura. Prima di avere il tempo di riflettere un po' sulla cosa, stavo già andando verso lo spogliatoio dei ragazzi. Ho attraversato lo spogliatoio correndo, mentre tutti giocavano. E poi, scusami, ci hanno visto entrare in palestra. Perché ci sono due spogliatoi, quello maschile e quello femminile. Forse dovrei andare via. Guarda! No! L'unica idea sana è non la segui! Se arriva qualcuno potrai avere dei problemi. Ma ho da lato, mi piacerebbe vedere com'è questo tatuaggio. Basta, non so, tipo, chiedere. Oh cavolo, sta entrando qualcuno. Deve essere Lisandro. Aveva detto che sarebbe andato via dopo l'allenamento. Può essere chiunque, può essere. Mi sono nascosta dentro un armadietto. Lo so, è immorale. E la curiosità è un pessimo difetto. Ma visto che ci sono, allora tanto vale dare un'occhiatina. Sei una pervertita. Ma letteralmente, una pervertita. Il mondo è il contrario. Ma in genere non sono i ragazzi a espiare le ragazze. Eh, ma te sei fuori di testa, quindi... Non riesco a vedere il viso del ragazzo. Ho visto che ha tolto il di sopra della tuta. E ho visto solo la sua schiena. Ma cosa sono tutti quei segni? Sono dei lividi? Non riesco proprio a vedere il suo viso. Non riesco proprio a vedere il suo viso.